Cari amici di Medie24, un cordiale benvenuto. Dunque, in grande giorno è arrivato per Gorizia e Nova Gorizia. Stamane l'incontro dei Presidenti della Repubblica Italiana e Slovena Sergio Mattarella e Borut Pakor, che si sono stretti la mano e hanno festeggiato con la loro presenza la nomina delle due città a Capitale Europea della Cultura 2025. Era accaduto un anno fa, quando i due Presidenti, grandi amici, si sono dati la mano davanti alla foiba di Basovizza e poi davanti al monumento che ricorda quattro giovani antifascisti sloveni condannati a morte dal Tribunale Speciale. Segni tangibili anche attraverso gesti dal forte valore simbolico che vogliono fare i conti col passato, ma lo vogliono superare insieme, condividendo un comune percorso di riconciliazione e di reciproco riconoscimento nei comuni valori di un'Europa unita e solidale. Perché non accada più che l'Europa torni ad essere il teatro di guerra e di odi, di rigurgiti nazionalisti, di egoismi, di odi etnici. Primo Levi, lo scrittore ebreo sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz, scriveva e successo potrebbe succedere ancora. Ecco perché gesti come quelli dei due presidenti hanno un valore che diventa al tempo stesso un esempio per tutta l'Europa perché continui ad essere ciò che è diventata il luogo della democrazia liberale, della pace e della pacifica convivenza, della condivisione di valori comuni di solidarietà. Grazie davvero a Sergio Mattarella e a Borut Pacor per la loro testimonianza che non è solo istituzionale, ma carica di quei valori umani e sociali di cui sentiamo, soprattutto in questo momento, un grande, grandissimo bisogno. E la cronaca della giornata ci racconta che i due presidenti si sono incontrati nella piazza Bevkov a Nova Gorica, dove hanno ricevuto gli onori militari sloveni e subito dopo il pranzo offerto dal presidente Pacor si sono recati in visita al nuovo ponte di Salcano che unisce le due sponde dell'Isonzo. Qui i curatori del progetto hanno illustrato quali sono stati i fattori decisivi che hanno consentito alle due città di vincere il titolo di Capitale Europea della Cultura. Poi i due capi di Stato si sono recati in Corso Verdi a Gorizia, dove hanno ricevuto gli onori militari italiani e quindi hanno fatto visita al Teatro Verdi alla mostra sui 140 anni di vita del giornale Il Piccolo di Trieste. Ma il momento clou della giornata si è svolto in piazza Transalpina, dove i due presidenti hanno pronunciato i loro discorsi ufficiali proprio sulla linea di confine che divideva le due città. L'intensa giornata si è conclusa con un concerto con oltre un centinaio di musicisti e cantanti, alla presenza anche di una ventina di studenti delle scuole e delle università di Gorizia e Nova Goriza. E intanto la staffetta Cremisi per la pace in ricordo del centenario della tumulazione del milite gnotto, di cui abbiamo dato ampio risalto nelle passate edizioni, lambisce un po' tutte le città del nord-est. Anche Pordenone e Portogruaro saranno interessate dall'evento, come ricordavamo, la staffetta è composta da un bersagliere in bicicletta e da due podisti bersaglieri che visiteranno un po' tutti i luoghi simbolo della Prima Guerra Mondiale, per concludersi ad Aquileia, da dove partì la salma del milite ignoto che, dopo aver attraversato con un terreno speciale la penisola, è stato tumulato al vittoriale di Roma. In particolare a Pordenone, città significativa per i bersaglieri, la staffetta farà tappa domenica 24 ottobre con una cerimonia in piazzale Ellero e la consegna al sindaco della targa commemorativa dell'evento. Il sindaco Alessandro Siriani ha convocato in presenza i componenti del nuovo Consiglio Comunale di Pordenone per domani, venerdì 22 ottobre, con inizio alle ore 16 e 30. L'ordine del giorno prevede che il relatore, il sindaco in qualità di relatore, proporà l'immediata esecutività dell'elezione diretta del sindaco e dei consiglieri con la convalida degli eletti, le dimissioni del consigliere comunale candidato a sindaco Giovanni Zanolin e la relativa surroga, l'elezione del Presidente del Consiglio, il giuramento del sindaco, le comunicazioni in merito alla nomina dei componenti della Giunta Comunale, la nomina della Commissione elettorale per la tenuta dell'albo degli scrutatori di seggio e dell'albo dei giudici popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello. Primo appuntamento importante dunque per la Municipalità Pordenonese dopo le recenti elezioni amministrative. E intanto riparte sempre a Pordenone il servizio didattico dei musei locali, dei musei cittadini, il servizio di Erika Ius. Riparte Musee, il servizio didattico dei musei civici di Pordenone con nuove occasioni d'apprendimento, laboratori e approfondimenti alla scoperta dei musei civici d'arte, di storia naturale e archeologico per bambini e ragazzi di tutte le età. Siamo al Museo di Storia Naturale di Pordenone ed è una giornata felice perché per la prima volta dopo il Covid sono tornati i bambini ad animare i musei. E approfitto per dire che le attività didattiche nei musei comunali, cioè appunto il Museo di Storia Naturale, il Museo Civico e il Museo archeologico, sono pienamente ripartite con un ricco programma che è destinato ai bambini delle scuole di ogni ordine e grado. È un modo per valorizzare i nostri musei e anche per coinvolgere i nostri ragazzi nella vita culturale pordenonese. L'invito alle scuole è quindi quello di rivolgersi al sito del comune, a Eupolis che gestisce queste attività per iscriversi e scoprire questi centri culturali della nostra città. Il progetto, aperto alle scuole di tutto il territorio, dall'infanzia alle superiori, propone una ricca gamma di laboratori e interventi da realizzare in museo, in ambiente, in aula didattica e nella sede scolastica, sia in presenza che da remoto, nel rispetto di tutte le regole anti-Covid. Il progetto Museo Civico di Pordenone riparte quest'anno con le attività direttamente in presenza, finalmente, con molte proposte che riguardano tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Sono 96 proposte diverse tra il Museo archeologico, il Museo di Storia Naturale e il Museo d'Arte, con attività laboratoriali in cui i ragazzi sperimentano e toccano con mano i reperti per far vivere a pieno i musei. C'è inoltre quest'anno la possibilità, viste le difficoltà di alcune scuole di accedere al museo, anche la possibilità di svolgere le attività direttamente a scuola o nei parchi cittadini. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0434 92 3027 il lunedì dalle 14 alle 17 oppure scrivere a info chiocciola eopolis.info. A partire dal primo giorno meteorologicamente e tecnicamente utile tra l'8 e il 12 novembre e per la durata di un giorno lavorativo in via Zappetti a Portogruaro in corrispondenza e prossimità del civico 62 sarà istituito un senso unico alternato per i lavori di allacciamento dell'acquedotto. Lo dispone il comune di Portogruaro con una propria ordinanza e con analogo provvedimento a partire da oggi e fino alla fine dei lavori all'intersezione tra via Marco Polo e viale Pordenone la circolazione veicolari sarà regolamentata a senso unico alternato. E a Udine da martedì 26 ottobre a martedì 15 novembre in piazza Primo Maggio la disciplina della circolazione stradale verrà modificata al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione Luna Park di Santa Caterina 2021 che si terrà dal 30 ottobre al 14 novembre. In particolare dalle ore 0 del 26 ottobre alle ore 24 del 16 novembre in piazza Primo Maggio sarà istituito per l'intero arco delle 24 ore il divieto di sosta temporaneo per ogni categoria di veicoli in tutte le aree di sosta in adiacenza dell'ellisse centrale. Sarà inoltre istituito il divieto di transito per ogni categoria di veicoli lungo la bretellina adiacente dell'ellisse di fronte ai giardini Loris Fortuna. Saranno realizzate una corsia di marcia a tratti delimitata ed evidenziata con transenne o New Jersey bicolori lungo tutta la piazza e una corsia di uscita dal parcheggio raso presente sul lato sud-ovest. L'attraversamento pedonale posto di fronte alla scalinata dell'Istituto Stellini sarà chiuso all'altezza del marciapiede e i flussi pedonali deviati al successivo attraversamento pedonale posto a circa 50 metri. Lungo tutta la piazza sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 chilometri all'ora. A Polcenigo è stato presentato il progetto regionale Friuli Venezia Giulia in movimento 10.000 passi di salute percorso delle sorgenti tra le località di Santissima Cultura, Gorgazzo e Polcenigo. Si tratta di un'occasione molto importante per valorizzare ulteriormente le ingenti ricchezze naturali, storiche, artistiche, archeologiche del territorio di uno dei borghi più belli d'Italia. Così ha aperto l'incontro il sindaco di Polcenigo, Mario Della Toffola, accompagnato dagli assessori alla salute e servizi sociali Oliva Quaia e Turismo, Fabio Pegoraro, alla presenza dei coordinatori del progetto regionale e ai rappresentanti delle associazioni locali, delle guardie forestali, del gruppo archeologico e del gruppo di Cammino. E' poi intervenuto il presidente di Federsanità Anci Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Napoli, che ha ringraziato il sindaco, gli amministratori locali, i tecnici del comune e le associazioni che si sono resi protagonisti del progetto. E' seguita la presentazione da parte dell'assessore Pegoraro del percorso delle sorgenti, un anello che misura 7,2 km di lunghezza. La finalità, ha precisato l'assessore, è quella di far conoscere ai visitatori, turisti e anche cittadini, le grandi ricchezze di questo territorio. Un'opportunità dunque da non perdere a Polcenigo. E' ha suscitato grande interesse e curiosità l'iniziativa di Azione Teatro per il cambiamento climatico sul tagliamento, evento multidisciplinare ideato dal regista Giovanni Morassutti. Significative le location individuate, l'antica fornace di San Paolo a Morsano al tagliamento, recentemente ristrutturata, e un'area verde vicino allo stesso fiume. E' tra gli interventi più significativi sul tema del clima, quelli della dottoressa Federica Flapp, portavoce dell'Agenzia regionale Arpa Friuli Venezia Giulia, che ha illustrato al pubblico gli effetti del cambiamento climatico in regione. E' quello di Martina Bellucci, vice presidente di Lega Ambiente Pordenone. A portare il punto di vista delle energie rinnovabili e delle alimentazioni, sono stati Edoardo Marcon, giovane imprenditore del settore e da natura sì coproduttrice dell'evento. In qualità di regista, Giovanni Morassutti ha presentato il testo UN della drammaturga canadese Ren Bryan con Clelia Delponte e Viviana Piccolo, che hanno recitato a ridosso del fiume Tagliamento. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità e al sostegno della Proloco di San Paolo e del Comune di Morsano al Tagliamento, che ha patrocinato l'iniziativa. E' sempre domani, venerdì 22 ottobre, alle ore 20.45, a Palazzo Regazzoni a Sacile, secondo appuntamento con la quindicesima rassegna internazionale i concerti a Palazzo. Evento organizzato all'associazione Ansable, serenissima, con il contributo del Comune di Sacile, della Regione ed il sostegno della Fondazione Friuli. Protagonisti saranno la pianista Elisabetta Chiarato e il quartetto FOB, composto da Sara Brumatta al flauto, Alberto Faroni al loboe, Tommy Budin al clarinetto e Alberto Oliva al pianoforte. domenica 24 alle ore 17.30, nella chiesa di San Odorico, invece, l'associazione si fa promotrice del concerto organizzato dalla corale camminese di Cammino al Tagliamento, che propone l'esecuzione dell'oratorio pasquale del maestro Davide Viani, compositore friulano, scomparso nel 2005, del quale ricorre proprio quest'anno il centenario della nascita. E ci sarà il nipote di Rino Gaetano domani, venerdì 22 ottobre alle ore 20.30, al Culturni Dom a Gorizia a rendere omaggio al celebre zio nel quarantesimo anniversario della prematura scomparsa avvenuta in seguito ad un incidente stradale il 2 maggio del 1981. L'evento è organizzato dal collettivo Terzo Teatro e rientra nel 31esimo festival Castello di Gorizia, premio Francesco Macedonio. Si potrà quindi applaudire la Rino Gaetano Band, capitanata da Alessandro Gaetano, un'occasione imperdibile per i tantissimi fan di Rino che ancora lo amano, ma anche per chi muove i primi passi verso la sua musica. E ora vi lascio alle previsioni del tempo, cari amici di Medie24 e a seguire momenti di sport e società a cura di Stefano Boscariol e subito dopo uno speciale sull'elettrocultura Andrea Donna, lui esperto della materia che abbiamo incontrato in una precedente trasmissione, è stato chiamato dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia, cittadella della formazione e della solidarietà per un focus su questa tecnica innovativa. Buona visione con i nostri programmi, un caro saluto a tutti voi in alto i cuori.